Saper comunicare efficacemente vuol dire mettere le ali alle proprie idee e alla propria carriera. Nell'era dell'overdose di informazioni, parlare di persona ad un pubblico è la chiave che fa la differenza. Fare il centro in una presentazione significa riuscire ad entusiasmare l'audience, a motivare la donazione, un obiettivo che ognuno di noi dovrebbe avere e che tutti noi possiamo raggiungere con la giusta formazione. Successful Presentation è il corso che ha già aiutato centinaia di persone e contiene tutto quello che serve per fare presentazioni di successo. Alcuni pilastri trattati sono la preparazione, la comunicazione non verbale, la realizzazione e l'uso dei supporti visivi, l'interazione con il pubblico, le domande e risposte e la gestione del nervosismo. I due giorni di corso sono molto centrati sulla pratica. Al termine avrete anche l'accesso al videocorso online di oltre 5 ore, dove potete rivedere molti concetti tutte le volte che volete e dal vostro ritmo. Approfittate ora di Successful Presentation e iniziate subito a fare presentazioni efficaci e persuasive.